è mercoledì e allora terzo giorno per l'europia social camp 2023 di palermo nuovo allenamento questa mattina per i ragazzi della carovana esc siamo stati nel campo dei più piccoli che fondamentalmente si divertono soprattutto a quell'età non si può naturalmente pensare di poter avere a che fare con dei giocatori già formati allora il divertimento è sempre la prima regola quindi giochi particolari delle piccole sfide tra di loro insomma tanti sorrisi e divertimento nel pomeriggio il grande protagonista è stato la nostra che star davide moscartelli che è arrivato a palermo è atterrato ha conosciuto i ragazzi e fatto la foto ufficiale con loro e ha trascorso qualche minuto proprio in campo per vedere come si lavora allora pienso il camp domani giovedì quindi quarto giorno di camp un'altra doppia seduta di allenamento poi ci sarà nel pomeriggio quello del saracen il meet and greet con davide moscartelli è un ospite speciale che ci riuscirà proprio questa sera per cui l'europia social camp continua stiamo raggiungendo la fase finale restate con noi sempre sui nostri social per seguire tutti gli aggiornamenti dalla quattordicesima edizione grazie a tutti grazie a tutti